3 girate epiche con 3 partite, 3 like, 3 iscrizioni, 3 campanelle Si parte con la prima, let's go! Damme qualcosa di buono, poi detestiamo Facciamo la partita con la skin ritrovata, spero non sia una doppia La mummia leggendaria pliss Andava bene pure il ninja, però buono anche il demone blu Cosa è uscito? Attenzione! Te prego! No! Un altro demone!